Ciao ragazzoni, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video, ben ritrovati all'interno del vapor stamblerello perché stambolino, gaisello, stanno molto molto bene, vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando in questi giorni perché stiamo facendo veramente dei bei numeri qua su youtube e questo mi fa sicuramente piacere mi raccomando come al solito lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella per vedere i prossimi video e per rimanere sintonizzati su tutto ci sono altri due canali aggiuntivi, i tiktok e instagram, li trovate qua sotto in descrizione insomma andatemi a seguire anche sui social network e se vi va potete anche abbonarvi in aggiunta a questo canale youtube con soltanto 3 centesimi al giorno e 99 centesimi al mese oppure gratuitamente sul mio canale twitch attraverso l'abbonamento hai la possibilità di partecipare ai tornei che faccio con gli abbonati nelle live insomma oggi poveriggio ci vediamo in live all'ora 17 per un mega ritorno perché da un po' che non faccio live insomma ti aspetto, bello 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 gazatiel stambolino gaisello, oggi video importantissimo, questo video deve arrivare a più persone possibili perché si parla di unboxing, si parla di, come si può chiamare, ruoto opening, lo chiamerei così abbiamo un sacco di cose da fare, abbiamo ben 748 gettoni viola, abbiamo 1700 gemme siamo qui per andare ad unboxare veramente tante skin epiche andremo ad unboxare ben 10 skin, 10 rotelline queste qua vedete qua facciamo 10 per 10 andiamo a fare un bel 350 di investimento e poi se volete la parte 2 di questo unboxing dovete assolutamente lasciare like e commentare qua sotto con quello che avete fatto voi all'interno del pass ci sarà poi anche un box opening riguardo al pass approfitto per andare a riscuotere questi ulteriori 25 una volta che arriverò ad una soglia accettabile andrò a fare anche il box opening del pass quindi non vi preoccupate che ci sarà anche quello insomma ci sono un sacco di cose da andare a fare prima però di andare ad aprire le skin epiche vado a farmi i 3 giri gratis i 3 giri gratis che solitamente non ci danno un gran che ma comunque magari qualcosina di caruccio lo possono droppare ti prego droppami qualcosa di decente niente, gettoncino viola di consolazione ce lo facciamo andare più che bene allora Allora Ti prego No i 5 gettoni viola erano veramente comodi Fa niente ultimo giro gratis Per noi Ti prego droppami Un qualcosa di viola Voglio le gemme leggendarie vanno via 10 gemme 10 gemme Ottima queste 10 gemme le mettiamo in saccoccia Entrano da noi Optimus così Ragazzi tenetevi pronti Primo giro ne facciamo 5 Adesso 5 giretti Qua può uscire la skin speciale Ho fatto un video su come ottenere le skin speciali Ho trovato nelle schede cliccabili qua in alto Deep Diver Secondo giro per noi Non ci posso credere Non ci posso credere Era veramente vicino Era veramente vicino ragazzi Leggendaria Ti prego droppami qualcosa Ti prego droppalo Ma dai ma che è sta cafonata Grizzly Ma non mi neanche una leggendaria Mi droppi Oh leggendaria Bello il Porcus Bello Warthog Bello Warthog Non mi è dispiaciuto Non mi è dispiaciuto il Warthog Attenzione non mi è dispiaciuto il Warthog Andiamo subito a provare quello che abbiamo trovato Perché questa qua leggendaria che abbiamo trovato Il cinghialozzo Il Warthog Non mi fa troppo schifo Quindi subito dentro una partitina con questa E poi dopo andiamo ad aprire bene altre 5 Rotelline giranti Quindi subito mi raccomando un mi piace Se volete vederne altre in altri video Insomma ho già ben preparato tutta la schedule dei video Però questo mi sembrava un primo episodio per iniziare Abbastanza importante Che deve arrivare assolutamente a tutti Attenzione qui voglio vedere le cose importanti Primo stop come sapete Questo livello qua è abbastanza particolare Perché è un po' balordo nel su da farsi Adesso siamo 0 su 16 di qua Non mi dispiace troppo Adesso saltellino di qua Bello così Questa cosa qua che ho appena fatto È uno dei trucchi che vi ho già detto Uscirà un video in settimana riguardo ai trucchi aggiornato Quindi mi raccomando andatela a recuperare Se ve lo siete perso Se vi siete persi quelli precedenti Perché Io odio questa cosa che succede Ve lo dico Non deve assolutamente più succedere Perché la odio veramente con tutto me stesso Ok siamo riusciti ad entrare 8 su 16 Metà dei qualificati Non male Potevamo far sicuramente meglio Ma abbiamo avuto un piccolo problema Con il tutto Warthog comunque si sta comportando effettivamente bene La skin in sé in game Non mi dispiace affatto Sono curioso di sapere Per quale motivo Le skin speciali Te ne diano soltanto una È veramente raro trovare la skin speciale La voglio assolutamente andare a trovare Quindi farò sicuramente altri box offering O comunque Vi dico già Probabilmente a questo punto Andrò a shoppare Proprio un pacchetto Che ti dà la skin speciale In modo tale da fare eventualmente poi Del content di quel tipo Non lo so ancora Sono idee che mi sto facendo in questo momento Attenzione Qui abbiamo le difficult heads Ok Il grande rimbalzo del vaporegaz Qua mettiamo un po' la bandierina Ma noi siamo quelli che andavano a fightare in mezzo Attenzione eventualmente ai rotelloni Lui va subito giù Perché il vapor se la gioca molto bene Anche lui In realtà lui l'ha rimbalzata Ma poi alla fine Mi sa che è caduto comunque Quindi Ci sta Ci sta Ci sta È un buon risultato Attenzione 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 Buono così Stiamo comunque mantenendo il possesso Secondo me non era malaccio la mia giocata Cioè è stata molto utile Perché Sono riuscito a salvare Una cosa abbastanza improbabile da salvare Proverei a fare tipo così Che è sbagliata come giocata E su lì sicuramente mi romperà le balle E figurati Sto pezzente mi romperà le balle Adesso qua Mamma fan bene Ho sbagliato tutto qua Ho sbagliato proprio tutto Ho sbagliato Santo Eh dai però Il salto Er saltuz E giù Esium E via E si mantiene 8-4 Siamo in grande perdita Ma il vapor continua a mantenere la sua La sua forza di qua Bella la giocata di là Ok Ho provato a salvare il nostro compagno da questa zona di qua Bisogna comunque mantenere la bandiera blu Io vado a fightare Per prenderne altre 6-5 per noi Attenzione che la situazione si sta effettivamente ribaltando Molto molto bene così Eh Ho fatto un erroraccio qua in teoria 6-6 Non devono assolutamente prenderla loro Ok uno è andato giù Sto facendo contesa Sto facendo contesa Sto facendo contesa La recuperano 5-5 Recuperata quella Maledetti 5-5 No 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 7-5 GG 7-4 Attenzione il warmall Come la mantiene lui 6-4 7-4 5 secondi 3 2-1 Oh let's Let's go Let's go ragazzi Finalona per noi Siamo negli ultimi 8 L'abbiamo portata a casa Ottimo così Eh Finale con il warmall Subito così Prima volta che Proviamo il warmall Subito una finale Importante Quindi Sono curioso di sapere Effettivamente cosa ci possa Uscire da questa finale Jungle roll Mappa che io odio Ma che Se è masterata Può effettivamente Portare ad un buon risultato Bisogna semplicemente Masterarla Cosa che io assolutamente Non ho minimamente fatto Va bene così Ci accontentiamo in realtà Di questa cosa così Focus Focus Perché qua Bisogna giocarla Assolutamente bene Non possiamo fare le porcate Bello così Bello dip di qua Ersa al tiro De qua Lui l'ha giocata forse meglio Che è passato subito di là Non lo so sinceramente Quale dei due Mi è convenuta meglio Bella così Sono passato Ma è passato anche lui È passato anche lui E non lo recuperi più Franci È passato Franci È passato Franci Maledetto GG a Franci Perché comunque Ha fatto il suo Che devi fare GG GG a Franci È passato lui È passato lui Comunque non eravamo messi Troppo male Un complimentone a Franci Che con questa skin Molto bella Molto bella questa skin Se la porta a casa Adesso tenetemi pronti Perché abbiamo altre 5 ruote Da andare ad aprire Quindi la skin speciale Potrebbe effettivamente Essere droppata Mettiamo subito come prima Seleziona quantità Per 5 In totale ne abbiamo aperte 10 Le prossime 10 Verranno aperte in un secondo episodio Ma sta tutto in base ai vostri like Non ci posso credere Non ci posso credere Era lì Era lì Maledetto Era lì Era lì Leone bianco Te posso dire Non male Ti prego No Il dinosauro verde Non mi piace troppo Una leggendaria Almeno droppami una leggendaria Ma che è Ma che è Il volpotto ce l'ho già Che pazienza Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Vicino 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 Eh Niente da fare Niente da fare Il Il Ok Doppione 15 Probabilmente sì Non lo so come funziona Personalizza Sì Gli ha già venduti Quelli di Che avevo doppioni Ti dico Il bottino alla fine È stata una skin Leggendaria Che non è male Però Mi aspettavo sicuramente Di meglio Il video termina qua Come al solito Like, iscrizione Attivazione della campanella Se volete vedere altri video Di questo genere Mi raccomando Un po' Alle 17 in live Domani alle 14 Qua sul canale Ciao bello 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 Grazie a tutti.